e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui vi faccio vedere questa nuova uscita delle magiche storie sonore disney siamo arrivati al numero 48 e questa volta stiamo parlando di basil investiga topo bellissimo cartone animato ispirato al personaggio di sherlock holmes cartone animato visto e rivisto più volte uno dei miei preferiti della disney ovviamente andiamo a togliere la plastica dal libro come sempre andiamo a vedere per prima cosa il libro magiche storie sonore disney basil investiga topo bellissima anche qui la copertina con tutti i protagonisti andiamo a vedere il libro bellissimo film che ho visto e rivisto che vi consiglio ovviamente di vedere qui c'è rattigan il cattivo del cartone eccolo qui bellissimo film uno dei migliori che abbia mai visto della disney qui c'è vampirello topson e basil eccoli qua questi due protagonisti ispirati a sherlock holmes e watson vi consiglio ragazzi veramente di vederlo che è davvero favoloso po anche se non mi sbaglio la cassetta in vhs oltre al dvd e adesso andiamo a vedere la figura ragazzi di basil andiamo ad aprirla per questo numero 48 andiamo a togliere la plastica ed eccola qua ragazzi davvero ben fatta senza alcun difetto guardate eccola qua questa volta veramente forse c'è solamente questo piccolo difetto qui ma per il resto è fatto veramente da dio andiamo a prendere il libro lo mettiamo sulla prima pagina andiamo a prendere il magic box lo accendiamo e diamo via alla magia basil l'investigatopo è una sera nebbiosa a londra e nel laboratorio del signor claversham un geniale inventore di giocattoli la piccola olivia si sente davvero fortunata il suo papà le ha costruito una bambola che balla per il compleanno sei il papà più buono e più bravo che esiste al mondo gli dice gettandogli le braccia al collo la felicità però dura poco all'improvviso un pipistrello irrompe nella stanza e l'inventore sparisce nel nulla papà dove sei? si dispera la topina sola nella notte scura e questa ragazzi è la prima pagina di basil l'investigatopo andiamo a prendere adesso la prima uscita che era stata simba del re leone ed eccola qua tutte e due insieme e niente ragazzi mentre gli piace commentate iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti belli ciao